Dopo un buon pranzo, chi non ha altre mansioni da svolgere può andare alla ricerca di un po' d'ombra per sdraiarsi a riposare. Mentre gli altri riposano all'ombra, questa bionda fanciulla di vita al tiro a segno prepara i gessetti che saranno il bersaglio dei giratori che questa sera proveranno la propria mira. Il circo per qualche ora si assopisce mentre il sole tardeggia la terra con i suoi raggi di cuo. Sotto il caldo affoso delle prime ore pomeridiane non c'è niente di meglio di una buona bibita fresca. Ecco infatti Mirna e Divana distese all'ombra intente a sorseggiare il refrigerante liquido. Intanto si scambiano le loro impressioni, le solite impressioni di ogni ragazza di ciottelle. Sotto il caldo affoso delle prime ore pomeridiane non c'è niente di più.